Questi sono dei documenti che io sto scrivendo. Bene, questo con Pages, potete usare Pages, Word, quello che vi pare. Qui sulla destra voi trovate la scheda dei font, che possono essere tanti, pochi, dipende da quanti ne avete installati. In questo caso sto usando il Mac, ma fra due minuti passo a un iPad. Penso che abbiate tutti giocato con i font, per esempio cambiandoli in questo modo, vedendo che cosa succede quando si cambiano i font. Però ci deve essere un criterio che potete utilizzare per scegliere i vostri fonti. Il criterio io ve lo fornisco attraverso questo esercizio. Che cosa dice questo esercizio? Dice che noi prima di tutto utilizziamo l'applicazione Adobe Creative Cloud. Ecco, vediamo subito all'interno dell'iPad che cosa questa applicazione ci consente di fare. Allora, l'applicazione Adobe Creative Cloud è questa. Questa qua. Questa è l'applicazione Adobe Creative Cloud. Allora, prima di tutto, siamo in questa applicazione, d'accordo? Nella home dell'applicazione, vedete? Siamo nella home dell'applicazione. Sulla sinistra avete la sezione fonte. Mi seguite? Riuscite a seguirmi? Datemi un feedback. Sì, sì. Sì? Ok. Allora, la sezione fonte, che cosa vi propone? Vi propone di fonte a pagamento e di fonte gratuita. Guardate che i fonte, vi ricordate quello che diceva Sabina prima? Lei ha retribuito i suoi allievi per la reddizione di un marchio. Estremamente corretto. È un lavoro. La creazione di fonte è un lavoro. Vi ricordo che Steve Jobs è stato il creativo che è stato da un punto di vista informatico, se vogliamo. Ha inventato quello che ha inventato. Ma la sua creatività, perché la sua creatività nasce proprio dalla costruzione di fonte. Lo sapete che uno degli hobby di Steve Jobs, se non quello più importante, era proprio quello di elaborare dei fonte, di concepirli, di disegnarli. Ecco perché il Mac poi ha avuto sempre questa grande attenzione verso la grafica e la rappresentazione della forma attraverso la quale i prodotti venivano costruiti e derogati. Quindi è giusto comprare dei fonti nel momento in cui voi dite ma il fonte che mi rappresenta, del quale non posso fare a meno, è questo che si chiama XY, lo compro. Lo compro perché è il lavoro di qualcuno che li rappresenta. Allora, siamo nella sezione fonte. Che cosa dice? Che cosa dicono le indicazioni che vi ho dato? E che sono delle indicazioni che voi potete tranquillamente utilizzare per i vostri studenti. Quindi riproponendo pari pari quello che state facendo qui con me. Lo potete rifare per conto vostro per arrivare ai vostri risultati, ma anche proporlo proprio in classe come progetto esattamente nella successione che qui vi illustro. Allora, voi dovete cercare due fonte. Due, non di più. Perché due e non tanti? Abbiamo centinaia di fonte a disposizione. Perché ne devo scegliere due? Per alcuni motivi. Un motivo riguarda la comunicazione visuale. Non si usano mai più di tre fonte all'interno di uno stesso documento. Però noi riduciamo a due, questo mai, lo riduciamo a due perché? Perché in realtà ogni fonte è composto da una famiglia. E le famiglie di fonte sono composte da delle variazioni che rappresentano tutta una serie di grafiche differenti. E quindi, perché abbiamo il bold, abbiamo il black, abbiamo il cursivo, abbiamo dentro, all'interno di un font, questo font è una famiglia in realtà che rappresenta tutta una serie di variazioni. Quindi noi non possiamo utilizzare troppe variazioni all'interno di un documento perché creiamo confusione nel lettore. Quindi restringiamo l'indicazione classica di non utilizzare più di tre fonte a due. Due fonte. Secondo quali regole? Allora, seguite con attenzione. I fonti devono avere queste caratteristiche. Entrambi devono appartenere a una famiglia molto varia, che vada almeno dal pink, light, per esempio, fino al black. Vedi lo screenshot. Quindi qui abbiamo uno screenshot. Ah, questo non lo posso vedere. Voi sì, sicuramente lo volete vedere. Questo screenshot dimostra come una famiglia di font può essere articolata. Quindi entrambi devono presentare una famiglia molto varia. Poi uno di questi font deve essere con le grazie. Il font con le grazie ci servirà per il testo narrativo. Il corpo del testo. Per esempio, potete provare con Adobe Garamond Pro. Quindi proviamo a cercare attraverso la lente, qui da questa parte, vedete? La lente, proviamo a cercare Adobe Garamond. Abbiamo trovato Adobe Garamond Pro. Ci dice, ci propone di visualizzare la famiglia, quindi cominciamo a distinguere il font. Non lo chiamiamo più font, lo chiamiamo famiglia, perché ecco come si presenta la famiglia di Adobe Garamond Pro. È sempre lo stesso font, ma viene rappresentato graficamente in modi diversi, molto diversi. Per esempio, questo Bold è molto diverso da questo Italico. Tra l'altro, che cosa avete notato? Che all'interno di questa famiglia abbiamo già un carattere cursivo. Cioè, non è necessario, come normalmente voi fate, quando scrivete un documento, di evidenziare tutto un periodo e poi attribuire la forma cursiva al paragrafo che avete evidenziato. Perché i font più completi, diciamo veri, veri font completi, quindi articolati attorno a delle famiglie, presentano già queste variazioni. Per esempio, abbiamo un semibold. Un semibold che è una cosa italica, che è una cosa molto diversa dal selezionare un paragrafo. Per esempio, selezioniamo questo paragrafo e poi gli attribuiamo il carattere italico. Che io sto facendo perché è una variante che mi viene proposta da Google. posso anche trasformarlo in un bold, per esempio. Però un bold non è un semibold. E questo italico non è stato disegnato per questa famiglia di fonte. È stato applicato sopra il corpo normale. Quindi è qualche cosa di appiccicato al carattere. Non è qualche cosa che è stato elaborato da chi ha creato questo carattere, perché ha proprio disegnato la forma italica che deve assumere. Allora, ecco il primo ragionamento che facciamo. Scegliamo un fonte per il corpo. Quindi, non so, state scrivendo una relazione, avete i titoli. I titoli avranno un determinato fonte, mentre il corpo, cioè tutto il contenuto narrativo, avrà un fonte con le grazie sul tip. Quindi, ah, che cosa sono le grazie? Le grazie sono questi elementi grafici, vedete, che allungano un po'. Vediamo se riesco a ingrandire. Ecco, che sono degli ornamenti, degli ornamenti che abbelliscono. Guardate, la X non finisce quando termina la diagonale, il segmento diagonale, ma prosegue con un ulteriore elemento. Oppure questo, questo è un glifo, per esempio, nella F. Quindi sono degli elementi che abbelliscono il carattere, ma non è una bellezza fine a se stessa. È nata, ah, ecco, scusate, avevo l'ho qui bello grande e non me ne ero accorto. Ecco, questa è una grazia. Questa è una grazia, questa anche, e così via. Perché ci sono dei fonte che presentano delle grazie, questi ornamenti. perché la loro leggibilità risulta migliore. Se devo leggere un testo lungo, è meglio che questo testo abbia le grazie. Se io devo leggere, invece, tutta una serie di slogan o paragrafi staccati che sono anche scordinati tra loro da un punto di vista logico, perché sono tante affermazioni, tanti temi diversi, allora posso utilizzare un carattere senza grazie, come questo. Questo è un carattere senza grazie. Poi ci sono delle altre distinzioni all'interno di queste due grandi categorie, però a noi interessa intanto soffermarci, cioè capire che esistono caratteri con le grazie, caratteri senza grazie, e come li possiamo utilizzare. Torniamo alla nostra applicazione. Cancelliamo la nostra ricerca, torniamo indietro e cerchiamo dei font, tra i fonti installati vediamo qualche cosa che abbia le grazie e che ci può, che appartenga a una famiglia, come fate a sapere se appartiene a una famiglia, per esempio, guardate questo fonte che si chiama Super Cleredon, Super Cleredon contiene otto fonte, quindi è una famiglia, visualizza la famiglia, vediamo com'è composta questa famiglia. Highlight italic, anche un black, molto interessante black, potrebbe essere utilizzato in certe circostanze per evidenziare bene dei concetti, è molto più forte di un bold e black e abbiamo addirittura un black italic. Magari questo potrebbe essere proprio un font che fa al caso nostro. potete anche scrivere una frase, eccolo qua, dov'è? Sì, qui, in questa icona qua in alto a sinistra, fate un tap, potete scrivere una frase, per esempio, così, così, ed ecco che vi mostra come questo fonte rappresenta sulla carta la frase che voi avete scelto. Vediamo anche il maiuscolo e vediamo anche un punto esclamativo, così abbiamo un'idea migliore. Eccola qua, bello, è un bel carattere e molto ben leggibile. Scusa Alberto, sì, dimmi. Che carattere è che hai scelto? Perché lo sto provando anch'io con l'iPad. Allora, questo è un, dunque, questo è un super claredon, è questo qua, super claredon. Grazie. Mi sembra un, mi sembra un gran bel fonte, molto leggibile. Grazie. Se avete scelto, adesso fate qualche prova, cercate un fonte con le grazie che vi piace. Grazie. cercate un fonte con le grazie che vi piace. Quando l'avete trovato, diciamo che io posso essere interessato a questo, mi si chiama claredon, mi sembra, lo posso aggiungere a tutte le applicazioni che ho nell'iPad. Quindi diventa un fonte a disposizione dell'applicazione che quindi lo ritrovo in Pages, lo ritrovo in Keynote, eccetera. In che modo? Facendo clic su questo pulsantino in alto a destra, lo vedete? Sarebbe, è un T più, più vuol dire appunto aggiungi questo fonte. Quindi vuoi installare tutti gli otto fonte? Installa. Installa fonte. I fonte tramite le rite potranno essere utilizzati da altre app. Per effetto, installa. Eccolo qua. Sono comparsi tutti i check dell'installazione avvenuta. Bene, state provando. Sì, molti non sono inclusi nel pacchetto, ma comunque ci si arrabbano. Sì, dovete cercare quelli liberi. Ce ne sono anche diversi, eh, liberi che potete utilizzare. ovviamente. E scusi, io invece ad esempio sto cercando i font su Google perché io non ho l'iPad e una volta che, perché ho scelto, ho cercato quelli con le grazie e una volta che io me li scarico, poi posso usarli in Word? Certo, ma te li devi installare. Ok. fonte da computer vanno installati. Sì, sì, infatti, non volevo capire una volta installati se poi potevo recuperarli in Word. Certo, li trovi in tutte le applicazioni perché vengono installate, vengono installate a livello del tuo sistema operativo, del tuo computer. e quindi tutte le applicazioni può darsi che tu debba riavviare l'applicazione, magari riavvi Word. Ok. Col Mac l'installazione è automatica, si vedono comparire immediatamente i fonti in tutte le applicazioni e non c'è bisogno di riavviare. Qui dipende un po' quali sono le procedure, ma tutti i font che trovate in Google, in Google Fonts sono gratuiti. Ok. Però per installare i font Google all'interno dell'iPad e del tablet occorrono delle procedure un po' più complicate perché bisogna avere delle applicazioni specifiche per installarle. Quindi il sistema più rapido anche per evitare complicazioni con gli studenti è di impiegare questa applicazione Creative Cloud. Scusa Alberto, posso fare una domanda per quanto riguarda sempre il Creative Cloud Fonts? Mi puoi spiegare il pallino celeste con la macchina fotografica che è la T a che cosa serve? In basso. Perché qui tu tu utilizzi sì, allora tu inquadri un testo ok, questo è il testo eccolo qua e adesso lui fa la sua ricerca vediamo 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 ah però no sì insomma no ah sì vediamo no lui lui ti trova tutta una serie di famiglie che possono assomigliare è difficile però ecco vedi per esempio questo qua l'indie flower regular eh può essere tranquillamente utilizzato per un fumetto qui abbiamo un source sun pro che ha 12 è una famiglia di 12 font estremamente leggibile guardate anche rispetto a quello di prima com'è molto molto bello poi contiene anche l'extra light e il light che sono molto interessanti perché sono poco impegnativi sono molto utili per esempio in alcune pagine web si possono utilizzare tranquillamente nelle note nelle note a piedi pagina vedete la differenza tra un extra light con un regular questo è l'extra light e questo invece è un regular ha proprio anche l'importanza della lettura è molto diversa l'affaticamento dell'occhio quindi ecco che dovete scegliere due famiglie di font una con le grazie e una senza possibilmente che abbiano molte variazioni sul tema tra cui anche il bold no scusate il black molto importante il black e il light scegli un un font con le grazie e uno senza grazie che appartengono a una famiglia cioè che come me ne accorgo sia le grazie o non ha le grazie perché i font con le grazie sono i font che hanno vediamo per esempio questo è un font con le grazie queste sono le grazie sono degli abbellimenti delle linee delle linee in più diciamo così per semplificare che rendono agevole la lettura ok e questi font servono per non so un romanzo per il corpo quando devi leggere tanto testo va bene poi ci sono i font senza grazie come questo vedi non hanno grazie e questi vanno bene per i titoli le note e altre cose ok allora puoi scegliere come fonte tranquillamente il source sun 3 lo ricerchi tramite la lente ricerchi il source sun 3 sì e poi tramite il pulsante T più questo pulsantino qua T più li installi tutti tutti vedi il fonte è diviso si articola in una famiglia il fonte è sempre lo stesso ma viene rappresentato in modo diverso più spesso meno spesso più sottile ok li installi tutti ok source 3 l'ho fatto source sun 3 l'ho scandicato perfetto adesso ne scegli un altro invece con le grazie ok che pensi ti piaccia che non fatighi la lettura io ho scelto questo super claridon questo qua super claridon che va bene anche se no il miriade pro addirittura è un fonte che è composto da una famiglia di 40 variazioni vedete è pazzesco di 40 variazioni